Impennata micidiale dei prezzi al consumo in occasione della stagione estiva. Inchiesta del videogiornale tra frutta, vacanze e carburanti. Gli interventi al videogiornale. Davide Saia. La stagione estiva non sfugge rincari. Il conto della spesa è più salato, più cari biglietti aerei e quelli dei traghetti. A giugno l'inflazione ha attestato un aumento dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2012 e dello 0,3% rispetto a maggio di quest'anno. Le associazioni dei consumatori per un nucleo di tre persone calcolano una spesa che va dai 400-600 euro su base annua e sottolineano come gli aumenti siano ormai divenuti insostenibili. A trenare buona parte dei rincari è il costo del carburante. Dall'inizio del mese di luglio sono stati registrati già diverse maggiorazioni, portando il prezzo alla pompa ai valori più alti dello scorso 25 marzo. L'effetto del maltempo fuori stagione e i recenti rincari della benzina hanno di conseguenza portato aumenti nel settore alimentare, in particolare con frutta e verdura, come testimonia un commerciante del settore. Perché anche il parlamento del prezzo del gasolio, anche le tasse sono in aumento, sempre più in aumento, e i fornitori non ce la fanno più con tutti questi trasporti. Per esempio le mele del Trentino a Toadige, dal Trentino arrivare qua con il gasolio in aumento non ce la fa, il trasportatore non ce la fa ad avere dei prezzi favorevoli. È tutto un giro, dal trasportatore al grossista, al grossista al punto vendita. I dati ISAT relativi agli aumenti interessano anche i servizi legati alle vacanze. Abbiamo sentito un operatore del settore, il quale in parte smentisce i dati riportati dall'Istituto Nazionale di Statistica. I rincari riguardo ai soggiorni, agli hotelli, villaggi, diciamo che si sono allineati a quelli degli ultimi anni, non ci sono state variazioni. Anzi in molti casi, molti villaggi hanno fatto delle tariffe molto buone. specialmente nei last minute si riesce ad andare a fare una settimana anche con prezzi apportabili. Ovviamente il prezzo varia a seconda della qualità della struttura, perché le due cose vanno di pari passo. Semmai il discorso degli aumenti è legato ovviamente al problema dell'aumento del petrolio, che di conseguenza si riversa nell'aumento dei biglietti aerei, delle tariffe aeree, che di conseguenza si riversa nell'aumento dei pacchetti turistici che sono legati anche al trasporto. Quindi biglietteria aerea e soggiorno in hotel, è chiaro che il pacchetto subisce un aumento per quello che riguarda l'aumento del carburante. Partiamo dal presupposto che la gente non rinuncia alla vacanza. Quindi tutti coloro i quali nel passato erano abituati a fare le vacanze, perché poi ci sono anche quelli che non sono abituati a fare le vacanze, o perlomeno fanno le vacanze con una formula residenziale, non allontanandosi molto dal posto di residenza. Quindi tutti fanno le vacanze, continuano a farle nonostante la crisi. Magari si rinuncia a qualche altra cosa, per le vacanze si fanno sempre. Si mira ovviamente magari al risparmio, che è legato non tanto alla qualità, perché la gente alla qualità la cerca sempre, ma il risparmio è legato più a un accorciamento della vacanza, che da dieci giorni o da una settimana passa a tre, quattro, cinque giorni, magari ripetuti nell'arco dell'anno, però la gente di fatto viaggia. Grazie.